Teniamo bassa la musica così potete sentire anche i comandi del conduttore con i fischi. Ve l'ho detto che c'era la trenera che è in monela. Avete visto cosa ha fatto contro il cane? Ha attaccato? Guardate se non è bello questo Shetla, è un pastore delle isole Shetla, pastore molto piccolo ma con una gritta fantastica. Fa raccogliere le pecore in alto sulle montagne.